La zanzara è l'animale più letale al mondo. Si contano più di 3.500 specie, ognuna delle quali perfettamente adattata al proprio ambiente. Dalla savana africana alla tundra artica, pochi sono i luoghi nei quali una zanzara non può vivere. La zanzara femmina depone le uova in uno specchio d'acqua. Per alcune specie, le uova si schiudono nel giro di pochi giorni. Altre possono rimanere dormienti per molti mesi, in attesa del giusto cambio di stagione o di una pioggia repentina. Le uova si schiudono e le larve che ne emergono si nutrono di detriti e batteri. Una volta che la larva è abbastanza grande, entra nella fase di non alimentazione detta pupa. A differenza di altre specie di insetti, la pupa rimane molto attiva in acqua, per evitare l'attenzione dei predatori durante la sua trasformazione. Dopo un paio di giorni, lo sviluppo è completo ed emerge una zanzara adulta. Gli adulti sono in grado di volare in pochi minuti e cercare rapidamente un pasto zuccherino di nettare vegetale per acquisire l'energia necessaria alla ricerca di una compagna. Al crepuscolo, i maschi adulti si riuniscono in enormi sciami, dove attraverso le loro danze d'accoppiamento attraggono le femmine vergiri. Ogni femmina che si unisce allo sciame trova rapidamente un compagno per fecondare le uova. Raramente le femmine si accoppiano più di una volta, in quanto conservano lo sperma per il resto della loro vita in un apposito organo chiamato spermateca. I maschi continuano a nutrirsi di nettare e a sciamare ogni sera. Le femmine, invece, hanno un altro ordine del giorno. A differenza dei maschi, le femmine vanno in cerca di sangue, una fonte essenziale di energia per la produzione di uova. Questo comportamento è stato sfruttato da parassiti, virus e batteri come veicolo di trasmissione da persona a persona. Delle oltre 3.500 specie di zanzare, solo 4 sono responsabili di più del 95% della trasmissione della malaria in Africa. Queste specie si sono adattate al clima tropicale e si nutrono per la maggior parte di sangue umano. È stato dimostrato nel corso degli ultimi anni che oggi il più efficace sistema per combattere la trasmissione della malaria è attraverso la riduzione delle punture di queste 4 specie.